questione rifiuti manutenzione stradale e scarso impiego dei giovani in ambito lavorativo i cittadini di ercolano intervenuti ai nostri microfoni fanno appello all'operato del sindaco chiedendo soluzioni per queste problematiche intanto il rialetto sindaco ciro buonaiuto punta ad una ripartenza nel segno della continuità riprendendo un percorso intrapreso nei precedenti cinque anni di amministrazione nel giorno della programmazione ufficiale il primo cittadino si è pronunciato ribadendo la necessità di costruire un futuro basato sul turismo cultura e legalità fino ad essere il migliore sindaco abbiamo avuto negli ultimi dieci anni quindi è contento del secondo mandato di buonaiuto si avrebbe qualcosa da proporre al rialetto sindaco si di pulire la città è molto sporca quindi la pulizia della città è una delle problematiche prima perché quando lavoriamo quando lavoriamo c'è ancora piena di spazzatura dappertutto soprattutto la zona alta ci sono altre problematiche che la giunta comunale deve affrontare stanno da quelle cose sono le strade piene di buche e altre cose ancora che lo sindaco lo savero ciro buonaiuto è stato un sindaco molto attento sia alla cittadinanza e anche nell'ambito della dell'acqua da un che abbiamo avuto cosa può fare ancora per la città può fare un pochettino più per la spazzatura perché noi siamo l'unico comune che paghiamo di più di tutti i comuni ci sono persone che non pagano e si lamentano anche quindi io spero che facciamo qualcosa della spazzatura poi le altre cose poi ci vorrebbero un aggiornato per è qualcosa per lo sport anche per lo sport perché i ragazzi a qua ercolano abbiamo avuto mai un palazzetto dello sport io penso che buonaiuto sta facendo cose belle poi ercolano per me è molto bella o perché la mia città ed è ricca di tante cose turismo cultura e legalità queste le parole del rialetto sindaco ciro buonaiuto nel giorno dell'insediamento ufficiale cosa ne pensa da cittadino penso che in questo momento a livello di riapertura è un po' difficile perché con questo coronavirus che sta guarendo è un po difficile la situazione ciro buonaiuto fino adesso guarda io sono 50 anni che sto qui ha fatto sempre delle cose bene turismo cultura e legalità queste le parole del rialetto sindaco ciro buonaiuto nel giorno dell'insediamento ufficiale cosa ne pensa da cittadino ma cosa ne pensi che al colano stiamo un po rovinati ancora su questo argomento qua certamente si può migliorare con progetti e altre cose varie per i giovani per i giovani soprattutto per creare posti di lavoro bisogna muoversi quindi sul fronte giovani maggiormente secondo lei certamente anche per riqualificare un po' la città che è rimasta ancora quella di 50 anni fa siamo un po' arretrati rispetto all'aggiunta nuova sperando che si iniziati a presto e faccio qualcosa di nuovo rispetto ai cinque anni precedenti ci sono altre problematiche da affrontare per quanto riguarda il trasporto stiamo proprio rovinati perché ci vogliono i mezzi pubblici comunali che vanno dappertutto anche per le periferie di san vito benedetto cozzolino cimitero e quanto altro e la pare alle periferie alte ci sono un po' arretrati rispetto ai cinque anni fa